Sai perché spesso l'uomo, l'uomo, la donna, sai perché spesso siamo scontenti? Quindi perché spesso siamo scontenti? Tu sei mai scontento, scontenta? Capita mai che tu sei scontento, scontenta dalle volte? Perché? Allora, ci sono vari motivi tutti legati insieme, ma in realtà uno dei motivi più profondi perché l'uomo è scontento è perché l'uomo è stato creato per cose grandi e quando vive per cose piccole il cuore è insoddisfatto. Pensate a questo. Siamo stati creati nell'immagine di Dio e Dio ci ha dato dominio sulla terra e Dio ci ha creati per rispecchiare Lui sulla terra e ci ha creati per compiere grandi opere. In Giovanni 14 Gesù dichiara In verità, in verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di questi, perché io vado al Padre. Dio ci ha creati a compiere grandi opere e troppo spesso la nostra vita è presa con piccole cose. Curare la propria famiglia, trovare lavoro, fare una casa, andare... Quelle sono piccole cose. Sono piccole cose e non soddisfano il cuore. Il nostro cuore non può essere soddisfatto se non viviamo per le grandi cose per cui Dio ci ha salvato. Allora uno potrebbe dire, eh ma io sono una mamma con quattro figli piccoli. Come posso fare grandi cose? Crescere quattro figli a capire di Dio è una grande cosa. È una grandissima cosa. Immensa. Quali sono le grandi opere che noi possiamo compiere? Che daranno vero senso alla vita? Lavorare? Farmi una casa? Avere un lavoro stabile? Quello? Quello è una piccola cosa. Quello è una vita sprecata. Quali sono le grandi cose? Le grandi cose che noi possiamo fare sono di essere usati da Dio per portare il frutto che dura nell'eternità. Se uno costruisce grandi case in 1889 1889 c'erano gli operai che si erano messi da fare e hanno fatto una casa ma metà del quale è là su quel lato Allora la vedo da qui una casa derocata costruita nel 1889 quanto vale quella metà della casa oggi? Davide sei stato dentro qualche volta è una grande casa stupenda meravigliosa vorresti abitarci in quella condizione però all'epoca era una casa signorile all'epoca era una delle case più belle della zona adesso nessuno vorrebbe andare a viverci era una cosa grande guarda la casa che abbiamo fatto adesso è una casa da buttare giù Dio ci ha creati in Cristo per compiere grandi opere che durano nell'eternità stiamo studiando il libro degli atti in cui Dio sta facendo grandi cose tramite i credenti questi credenti hanno investito le loro vite in opere che portavano gloria a Dio e tramite loro Dio ha prodotto frutti che durano per tutta l'eternità nell'ultimo sermone atti 8 abbiamo visto Filippo che è andato ad una città grande Samaria ad evangelizzare e dice che c'era molta gioia in quella città forse centenari e centenari di persone sono stati salvati non sappiamo il numero ma erano in molti oggi vogliamo continuare in atti atti 8 e specificamente vogliamo considerare l'opera di Dio tramite Filippo per salvare non una città ma un uomo un uomo che abitava in Etiopia questo uomo era un funzionario della regina quindi è molto possibile ed è quasi probabile che lui è tornato in Etiopia e Dio sia servito di lui di portare altri alla salvezza ma di quello non sappiamo dei tagli oggi vogliamo considerare la salvezza di questo uomo Leunucco quindi trovate con me atti 8 abbiamo già studiato la settimana scorsa da 1 a 25 che racconta la salvezza dei samaritani allora riprendiamo la storia dal versetto 26 ricordate che Filippo era appena stato in Samaria una grande città evangelizzando vedendo tantissime persone convertite ricordate quello importante per capire il contesto 26 ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza essa è diserta egli si alzò e si mise in cammino mi fermo lì ci sono varie cose da considerare qua ma qual è la lezione più grande in quelle poche parole che ho letto cosa vedete in quelle parole che è molto molto importante e da notare una cosa grande strepitosa cosa vedete state leggendo così come famiglia a pranzo cosa vedete in quel brano che parola non parola ma che parola non è scritta la parola ma salta fuori dal brano cos'è ubidienza ubidienza voglio considerare l'ubidienza di Filippo Dio comanda Filippo di fare una cosa che sembra assurda gli dice senza spiegare perché senza dire perché di andare più di 50 km a piedi non a un'altra città dove serviva evangelizzare una città ecco hai evangelizzato in Somaria adesso ti mando a Gaza o ti mando qui o ti mando ti manda nel deserto su una strada dove c'è pochissima gente ti manda lì e Filippo cosa fa eh ma perché ma perché mi manda lì ma ti rendi conto quanto è lontano e fa caldo io devo camminare quindi 50 km nel caldo lui non si lamenta non chiede perché cosa fa si alza e si è miso in cammino subito la sua obbedienza era immediata era completa era fondamentale per tutto quello che succede dopo tutto quello che succede è fondato sul punto che Filippo era pronto ad ubbidire a Dio e io prego questo per noi che noi possiamo fidarci di Dio a dire basta con il mio peccato io mi fido di te che vuol dire cammino in ubbidienza in ogni capo della vita non rimandare questa è la via della benedizione capisco se Dio mi manda a Samaria quello capisco io certo Samaria è una grande città vado a rievangelizzare non capisco se mi manda nel deserto ma Filippo ha detto sì a Samaria e ha detto sì al deserto è andato voglio considerare questo comandamento di nuovo leggo lì in 26 alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza essa è diserta allora non è tanto logico questo non è ragionevole non bisogna andare in un deserto per evangelizzare scusate andato in un deserto non ha senso invece l'angelo dice Dio vuole che tu faccia questo non sembra saggio ma non sempre le vie del Signore sono le nostre vie non sempre le vie del Signore quadrano con i nostri pensieri notate che Dio tramite l'angelo non ha detto a Filippo perché dovevo andare ha solo detto di andare su quella strada e Filippo ha obbedito non sapendo cosa avrebbe trovato là nel deserto questo è un atto di fede fede e dire Dio mi dice di fare questo ma io ho bisogno di un lavoro io ho bisogno di proverere per mia famiglia io ho bisogno di questo di quell'altro Dio mi dice di fare quello io ho bisogno e lui mi dice di non mentire ma se non mentisco perdo il lavoro ho una famiglia a carico mi fido di Dio mi fido di Dio mi fido di Dio Filippo si fidava di Dio allora vedendo Filippo come esempio esaminiamo noi stessi noi siamo pronti ad obbedire a tutto quello che Dio ci comanda mogli siate sottomesse ai vostri mariti in ogni cosa come a Cristo eh sì ma lui sbaglia non dice se sei d'accordo mariti sacrificati per le famiglie ognuno si sottomette agli altri ognuno non fate le vostre preferenze ma preferite gli altri e così via tanti discorsi eh ma se io vivo così chi pensa a me tu vivi fidandoti di Dio e Dio ci penserà si penserà a te come rispondiamo noi ai comandamenti di Dio quando non sembrano il vero senso oppure quando non sappiamo che risulta eh ma dove mi porta cosa devo ma perché devo fare quello che Filippo non ha chiesto nulla di quello tu mi dici di andare io vado non sapeva cosa avrebbe trovato si è fidato di Dio oh che possiamo essere un popolo di fede signore tu dici questo allora mi fido faccio quello la vera fede in Dio produce ubbidienza cieca tornando a Filippo nonostante che la guida dello spirito sembrava strano anzi potrebbe sembrare non avere senso Filippo subito ubbidisce si mette in cammino per la strada dove l'angelo aveva detto di andare e vediamo che quell'ubbidienza immediata immediata senza aspettare qualche giorno era fondamentale per essere al punto giusto al momento giusto se avessi ritardato sei ore se avessi stato troppo tardi per la missione che Dio aveva per lui infatti avendo ubbidito al comandamento di Dio si trova a quell'orario lì nel deserto il tempo che ci vuole per camminare 60-70 chilometri lui parte e dopo 70 chilometri se non sbaglio si arriva ok ecco la strada adesso adesso leggiamo l'adesso 26 in avanti ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo alziti e va verso il mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza essa è diserta egli si alzò e si mise in cammino ed ecco un uomo etiope eunuco un alto funzionario di Candace regina dell'Etiopi sovrintendente di tutti i suoi tesoro che era venuto a Gerusalemme per adorare ora egli questo è un uco se ne stava ritornando e seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia e lo spirito disse a Filippo accostiti e raggiungi quel carro Filippo li corse vicino e sentendo che leggeva il profeta Isaia gli disse comprendi ciò che leggi poi gli disse disse e come potrei se nessuno mi fa da guida poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui prima di tutto la prima cosa che vedo qua cos'è la provvedenza di Dio la provvedenza di Dio anche se noi non siamo in grado di capire come Dio opera è chiaro che Dio opera a gestire tutto perché Dio è Dio e noi siamo uomini semplici non possiamo capire come non dobbiamo preoccuparci eh ma come farai mi dici di fare quello come porterai bene da quello non spetta noi non siamo capaci noi a capire come Dio farà ma Dio farà Dio gestisce anche i più piccoli dettagli della vita per Filippo di arrivare al punto giusto su questa strada lunga proprio al momento che passava il carro statisticamente quanto è probabile che c'è una lunga strada e tu arrivi e sta passando un carro non è andare a mezzo chilometri dalla casa 70 chilometri si vede Dio che gestiva tutto l'angelo sapeva quanto velocemente o Dio sapeva quanto era la velocità di Filippo ha calcolato tutto calcolato le volte che dovevo fermare per mangiare e bere ha calcolato tutto e l'angelo è arrivato al momento giusto direi vai ok vado e Dio aveva stabilito quello è un uco che partirà a quest'ora domani pomeriggio e lui inizia due giorni prima quello che sarà e loro si incroceranno a quell'istante incredibile questo è Dio la Bibbia ci insegna che Dio è in controllo di tutto la pioggia le tempeste il vento la siccità quando un regno diventa potente quando un regno crolla ogni battaglia e ogni altra cosa Dio è in controllo quanti capelli abbiamo nella testa quanto un pastore vive e quanto muore Dio è in controllo di tutto anche se noi non siamo incapaci a comprendere come ma è in controllo e il controllo di Dio vuol dire che Dio gestisce perfettamente le cose in modo che la persona si trova al punto giusto al momento giusto per compiere quello che Dio ha prestavolito Dio usa il suo controllo per portare avanti il suo piano nella nostra vita e nel mondo intero Dio veramente riesce a far cooperare tutte le cose per il bene di coloro che amano Dio e quando noi camminiamo in obbedienza come Filippo allora la providenza di Dio ci metterà nel posto giusto per essere strumenti nelle mani di Dio per compiere opere che durano per l'eternità torno all'esempio di una mamma di quattro bambini piccoli il posto giusto dove è il posto giusto? il posto giusto è quando per l'ennesima volta quella mattina un bambino combina il posto giusto è un cuore che non guarda con agitazione ma guarda con pace fidandosi di Dio allora il cuore è nel posto giusto per dare una parola che fa raggiungere i cuori dei figli o di quell'amica che viene e vede lo stress della giornata e dice come riesci tu ad essere tranquilla? il posto giusto non è sempre un posto geografico è un posto di cuore ho parlato di un padre che ha un problema immenso con un figlio il posto giusto è di guardare a Dio ad avere pace e avere pace in mezzo ad una tempesta così così dice Romani 12 se non sbaglio quando parla di amare i nostri amici e così versare i carboni accesi sulla loro testa il posto giusto è di rispondere con amore alla cattiveria e così diventare uno strumento di Dio potente nella vita tu vivi nel posto giusto o quando c'è cattiveria dall'altra parte rispondi tu con cattiveria e allora non sei nel posto giusto e non sarai usato da Dio per grandi opere e il tuo cuore sarà insoddisfatto e io ringrazio Dio che non bisogna essere un grande uomo di Dio per essere nel posto giusto chiunque può essere nel posto giusto perché è un posto di avere umiltà e di dire io accetto quello che mi mandi ma in suitudine e mi fido di te e io ti prego una cosa glorificati tramite me quello è il posto giusto e Dio si servirà di chiunque in quel luogo chiunque si mette là sarà usato da Dio potentemente potentemente considerando ancora questi versetti vediamo che questo uomo questo eunuco era un alto funzionario della regina di Etiopia Dio salva persone da tutte le classi sociali in questo caso sta per salvare questo uomo che già aveva grande fede in Dio ma non era salvato era un uomo di fede ma non era salvato perché non era salvato se era già un uomo di fede cosa gli mancava era un uomo di fede perché non era salvato credeva in Dio della Bibbia ma non era salvato perché no Romani 10 cosa dice chiunque invoca il nome del Signore il Signore Gesù sarà salvato ma come possono invocare colui in cui non hanno fede possono avere fede se non hanno sentito di lui senza sapere di Gesù Cristo non si può essere salvato questo uomo aveva fede ma non sapeva di Cristo Dio ha mandato Filippo ad incontrarlo come so che aveva fede come so che aveva fede dal brano non c'è scritto nulla di fede come so che avevo grande fede non troverai però la fede come so che avevo grande fede cosa faceva come in quel momento probabilmente pregava sicuramente ma lì non stavo pregando cosa stavo facendo leggendo cosa le scritture Isaia una Bibbia all'epoca come come si poteva avere una copia della Bibbia come arrivava la copia stessa da dove veniva qualcuno doveva scrivere a mano non su un libro di pagine ma su come si chiama un rotolo quindi una Bibbia era una cosa costosa dove dove era stato questo uomo dove era stato è scritto a Gerusalemme per adorare quanto lontano è Etiopia da Gerusalemme più di duemila chilometri lui ha fatto un viaggio in carro sotto il sole che picchiava più di duemila chilometri per andare adorare Dio poi avendo certi mezzi economici perché era benestante ha comprato almeno Isaia se non tutto l'Antico Testamento ha comprato e lui lì nel carro aveva un servo che guidava vedremo dopo lui lì legge aveva appena lasciato l'Eusalemme non vedeva l'ora di leggere per conto suo allora qui c'è un uomo che cercava Dio un uomo che aveva fatto più di duemila chilometri in carro per andare a Gerusalemme per adorare aveva comprato una Bibbia leggeva la Bibbia tornando a casa qui c'è un uomo che Dio aveva preparato e grazie a Dio oggi Dio sta ancora preparando persone anche se noi non possiamo sapere chi sono in anticipo ma Dio ancora prepara le persone che desiderano sentire i loro cuori sono preparati la nostra responsabilità è quella di essere ubbidienti in modo che quando Dio mi dice di stare là o là o là che io ci vado mamme stai là in casa rispecchiando Cristo anziché essere agitate uomini fate guida di casa in modo che rispecchia Cristo anziché essere muso credenti chiunque al lavoro stai al posto di dimostrare bontà e pace e benignità quando tutti ti trattano male in modo ingiusto quello è il posto giusto per poter raggiungere le persone che Dio sta preparando allora Filippo aveva questo cuore giustissimo si trova al punto giusto lì nell'eserto sulla strada vede un caro e lo spirito disse a Filippo accostati a raggiungere quel caro Filippo li corse vicino sentendo che leggeva il profeta Isia li disse comprendi ciò che leggi guardate il cuore di Filippo era prontissimo ad ubbidire infatti appena lui viene detto lui corre per arrivare al caro non sapeva chi era quel tizio ma ah legge legge Isia sta leggendo dalla Bibbia io posso immaginare che quando lui sentiva leggere Isia che il suo cuore ha fatto un salto di gioia oh signore è qualcuno che tu hai preparato lo dava Dio nel suo cuore sicuramente oh ti lodo ti lodo tu mi hai mandato qui per qualcuno che tu hai preparato sta leggendo la parola di Dio poi Filippo come inizio allora lui dice comprendi ciò che leggi dovete capire questo è un modo in quella società per offrirsi per offrirsi per esempio se tu sei in una città turistica a Venezia a Roma e tu sei dal posto e tu vedi una persona che guarda una cartina e capisce che è è perduto e tu dici mi scusi lei sa dove sta andando è un modo di offrirti giusto è un modo di offrirti ha bisogno di aiuto ah si dove sono ma venga venga e si spiega sulla ecco noi stiamo qua dove vuole andare ah lì guarda vedi quella strada lì è questa qui e così ti offri Filippo si stava offrendo dicendo comprendi ciò che leggi allora questo uomo leggeva in Isaia e questo uomo cosa vedete qua risponde come potrei come potrei comprendere se nessuno mi fa da guida quindi accetto la tua offerta grazie tanto vieni vieni su poi prego Filippo di salire e di sedersi accanto a lui vieni su nel carro e qui vediamo un altro principio spirituale per arrivare a Dio uno deve essere umile deve riconoscere di non capire deve riconoscere di aver bisogno di guida così si arriva a Dio è solo così ma non finisce con la salvezza dura dopo per crescere bisogna essere umile per crescere bisogna dire ma non capisco mica tutto per crescere ho bisogno di guida l'umiltà serve per arrivare alla salvezza e serve per continuare nella salvezza allora domanda tu sei umile tu sei desideroso di ricevere guida consiglio insegnamento così così si cresce vediamo la provvedenza di Dio anche nel fatto che questo uomo stava leggendo un passo in tutta Isaia non c'è passo così chiaro che parla della morte e la risurrezione di Gesù quanto Isaia 53 e lui stava leggendo là avete mai visto la provvedenza di Dio ad un culto dove il brano principale oggi Isaia 53 potrebbe essere anche letto prima avete mai visto una cosa del genere magari uno chiama senti cosa di cosa predicherai domani voglio prepararmi oppure uno potrebbe non telefonare solo arriva con lo stesso brano ora il passo della scrittura leggo dal versetto 32 che egli leggeva era questo egli è stato condotto a macello come una pecora sta citando Isaia 53 e come un agnello è molto davanti a chi lo tosa così egli non ha aperto la sua bocca nella sua umiliazione gli fu negata ogni giustizia ma chi poteva riscrivere la sua generazione poiché la sua vita è stata tolta dalla terra e l'enucco rivolto a Filippo gli disse ti prego di chi dice questo il profeta lo dice di se stesso o di un altro allora Filippo prese la parola e cominciando da questa scrittura li annunziò Gesù c'è una lezione è importante mostrare Gesù dalle scritture se uno non ha una base nell'antico testamento è molto difficile capire il messaggio del nuovo testamento come dicevo questo uomo stava leggendo Isaia 53 è una profezia che parla del sacrificio di Gesù sulla croce spiega il motivo per pagare la condanna degli altri parla poi della risurrezione e che lui giustificherà tanti quindi questo uomo dice scusami di chi parla Isaia di chi sta parlando a chi si riferisce lo Spirito Santo dà il dono di insegnamento aveva dato questo dono a Filippo qui vediamo che questo uomo capisce di aver bisogno di insegnamento nel piano di Dio noi non riusciamo a comprendere la Bibbia da soli nel senso completo parzialmente sì ma non da soli abbiamo bisogno di insegnamento questo è il piano di Dio questo ci aiuta ad essere umili ricordate che anche coloro che insegnano io sono il primo qui hanno bisogno di insegnamento io trago immenso beneficio dall'insegnamento di altri la Chiesa il corpo di Cristo non è composto da tanti individui ognuno indipendente dagli altri questo non è la Chiesa piuttosto la Chiesa è un corpo con tanti membri tutti legati fra di loro e tra la sua crescita quando ogni parte dà dal suo vigore questo uomo umile riconosce io ho bisogno di insegnamento e così Dio provvede quell'insegnamento tramite Filippo e Filippo li annunzia Cristo allora abbiamo già visto studiando atti qual è il messaggio di Gesù Cristo non spiego tutto qui oggi però il messaggio in modo nocciolo è che Gesù l'uomo è Cristo Dio incarnato mandato al mondo per compiere la salvezza abbiamo visto che è stato mandato alla croce risuscitato e poi è diventato Signore cioè è diventato proclamato Signore per mezzo del suo sacrificio giustifica peccatori questo è il messaggio di Gesù in lui c'è perdono in lui c'è la riconciliazione con Dio questo è il messaggio che Filippo annunzia a quell'uomo e questo è il messaggio che noi dobbiamo annunziare agli uomini perché è l'unico messaggio che salva è l'unico modo di essere perdonati e riconciliati con Dio c'è un'altra cosa importante da notare qua questo uomo ha potuto credere in Gesù tramite una profezia dell'Antico Testamento abbiamo letto in Atti 1 e 2 e 3 che spesso gli Apostoli usavano le profezie per mostrare che Gesù è il Cristo anche oggi gli uomini hanno bisogno delle verità dell'Antico Testamento le persone qui capiscono Dio le persone capiscono Dio in modo corretto no e l'Antico Testamento ci rivela chi è Dio l'Antico Testamento ci rivela Dio il nostro peccato il giudizio ci mostra che solo la morte viene accettato come pagamento per il peccato quindi l'Antico Testamento prepara la strada per il Cristo Gesù che troviamo nel Nuovo Testamento Gesù è il Cristo profetizzato Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo quindi l'Antico serve per dar senso al Nuovo questo era quello che Filippo ha spiegato all'Eunucco e anche noi dobbiamo insegnare le stesse cose è un messaggio che bisogna spiegare dalle scritture c'è un'altra cosa interessantissima importantissima da vedere qui mentre leggiamo versetto 36 dice mentre proseguivano il loro cammino giunsero a un luogo con dell'acqua e l'Eunucco disse ecco dell'acqua cosa mi impedisce di essere battizzato mi fermo cosa si capisce da quello qualcosa di molto importante cosa possiamo capire da quello come mai questo Eunucco sapeva di chiedere il battesimo il battesimo non centrava con il giudaismo lui era giudeo probabilmente un proselito ma era giudeo i giudei non avevano il battesimo come sapeva lui di chiedere il battesimo lui non capiva di Cristo allora possiamo capire da questo che Filippo aveva parlato con lui del battesimo una parte di spiegare il Vangelo una parte di spiegare l'Evangelo di Gesù Cristo e di spiegare anche il costo della salvezza il costo le difficoltà il giorno di Pentecoste quando Pietro a Gerusalemme le autorità religiosi odiavano i credenti e si mettono a predicare pubblicamente e la gente dice lui dice siete colpevoli Gesù è il Cristo il Signore e la gente risponde a lui cosa dobbiamo fare così diceva Pietro siate ravvedetevi e siate battezzati ricordate in atti ravvedetevi e siate battezzati ma per un giudeo a Gerusalemme di essere battezzato pubblicamente era una cosa scandalosa era era una cosa che ti metteva contro la società ti faceva essere una persona esclusa dalla società perché i giudei capi avevano già detto chiunque crede in Gesù come Cristo sarà scomunicato e quindi essere battizzato vuol dire automaticamente essere scomunicato dalla società e Pietro nell'evangelizzare dichiarava che il battesimo faceva parte e qui Filippo all'eunico chiaramente aveva spiegato il battesimo e sappiamo che c'era qualcun altro perché dice ordinò che il caro si ferma quindi aveva un autista se non due o tre servi che avrebbero raccontato quello che era successo non era solo lui e Filippo quindi la lezione qui per noi è questo la salvezza non è un atto segreto che io posso non dire agli altri così evito scontri in famiglia al lavoro con amici la salvezza è un atto pubblico dove mi identifico con Cristo e se vengo detto su io vengo detto su io dico a tutti dico alla mia famiglia ai miei genitori ai miei figli ai miei fratelli ai miei colleghi io dico io adesso appartengo a Gesù Gesù ha pagato per me lascia che mi dicano quello che vogliono non mi vergogno di Gesù Cristo e quando si predica il Vangelo bisogna predicare il costo bisogna predicare il costo e quindi è una decisione costosa e bisogna spiegare il costo mentre si spiega Cristo il fatto che questo è un ucchiede battesimo vuol dire che egli aveva afferrato il messaggio e voleva Cristo costa quello che è Cristo aveva capito il suo peccato aveva visto in Gesù il Cristo che può perdonare e salvare e riconcigliarlo con Dio vediamo questo nella risposta di Filippo di nuovo leggo 36 37 mentre proseguivano il loro cammino giunsero ad un luogo con dell'acqua e Eleonuco disse ecco dell'acqua cosa mi impedisce di essere battizzato e Filippo disse se tu credi con tutto il tuo cuore lo puoi ed egli rispose dicendo io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio Filippo aveva spiegato a lui di Cristo il perdono in Cristo dal battesimo come simbolo della fede in Cristo e lo per dire lo suo cuore e questo Eunucco avendo creduto di cuore al messaggio avendo posto la sua fede in Gesù Cristo mentre ascoltava chiede di poter essere battizzato e c'è una lezione importante qui per noi quando annunciamo l'Evangelo dobbiamo parlare del costo dei problemi delle difficoltà perché qui vediamo se una persona veramente ha creduto se offriamo una salvezza che non costa nulla ah certo lo voglio certo lo voglio perché non capiscono ma aspetta aspetta ti creerà problemi problemi aspetta no quello è un altro discorso eh ma se facciamo così perderemo tante persone non perderemo nessuno veramente toccato da Dio Filippo vuole essere sicuro che questo uomo veramente ha creduto e quindi vediamo l'importanza di confermare che la persona che dice sì sì io credo ma veramente credi vediamo l'importanza di confrontare e confermare che la persona veramente ha capito e crede in Cristo ecco dell'acqua cosa mi impedisce di essere battizzato e Filippo gli disse se tu credi con tutto il cuore lo puoi e gli rispose dicendo io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio allora Filippo gli chiede se tu credi con tutto il cuore se tu credi veramente se tu capisci il costo se tu capisci veramente che tu sei peccatore e crede che Gesù può salvarti e Gesù è quel Cristo e lui sì io credo io credo non si può avere Gesù come salvatore senza avere Gesù come Signore quando lui dice Gesù Cristo figlio di Dio sta parlando di figlio di Dio divino mio Signore mio salvatore Romani 10 dice chi crede nel cuore professa con la bocca che Gesù cosa è il Signore dobbiamo annunciare l'Evangelo in modo chiaro spiegando chiaramente il costo e poi confermare che la persona è veramente creduto e quando l'evidenza è chiara che la persona è veramente ravveduta creduta in Gesù come Signore e Salvatore e non ha chiesto aspetta devo osservare per due mesi no accetto quello che dici di oggi si può battezzare quella persona con gioia quindi leggo 38-40 allora giunse a Cesarea essendo Filippo convinto che Leonucco aveva veramente creduto in Gesù Cristo era contento di battezzarlo scesero nell'acqua dove lo battezza una parola qui battezzare è una parola greco baptizo che vuol dire letteralmente immergere immergere sotto l'acqua o sotto l'aceto è proprio venire usato nelle ricette quando tu devi mettere sotto e lasciare a molla dentro un liquido come aceto è proprio la parola che si usa nelle ricette greche il battesimo consiste in immergere qualcosa nell'acqua perché simbolizza di essere immersi nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo e allora il battesimo in acqua rappresenta il battesimo spirituale nella morte e la risurrezione di Cristo avendo battezzato questo eunico Filippo viene rapito dello spirito di Dio e si trovò ad Azot che era molto lontano e allora non so se proprio in qualche modo lo spirito lo ha preso lo ha spostato e che l'unico non lo vede più non c'era più ma l'unico era calmente gioioso ma dove dove lui era gioioso sono perdonato sono riconciliato con Dio ha ripreso il suo viaggio con grande gioia non so cosa volete nella vita ma non c'è nulla di paragonabile di essere perdonato e riconciliato con Dio ed io prego che ognuno vedrà il valore di questo e desidererà di essere veramente accolto da Dio per mezzo di Gesù Cristo allora in questo brano abbiamo visto Dio continuare a portare avanti la sua opera di salvare nuove persone in Atti 8 la prima parte aveva salvato tante persone a Samaria qui manda Filippo a salvare una persona Gesù Gesù il buon pastore in Lucca dice che lascia 99 per andare in cerca di un'unica pecora perduta abbiamo visto Dio fare questo con Filippo andare in cerca di una persona ogni individuo è importante a Dio abbiamo visto l'importanza dell'ubbidienza immediata è completa quando Dio mi dice di fare una cosa io rimando spesso non mi trovo al posto giusto per compiere l'opera che Dio aveva per me il mio peccato di non arrendermi subito a Dio vuol dire che in quelle situazioni in casa con amici a lavoro in chiesa dove io avrei potuto essere usato da Dio per stimolare verso Dio aiutare i miei figli a vedere Cristo come desiderabile piuttosto gli faccio non voler Cristo per il mio peccato stesso con un collega di lavoro stesso con qualcun altro se io non cammino in ubbidienza mi troverò al posto spagliato e sto parlando più di cuore che geograficamente a volte anche geograficamente l'ubbidienza totale mi mette nel posto giusto per essere usato per compiere grandi opere se Filippo non avessi ubbidito non sarebbe arrivato alla strada al momento giusto e Dio ci guida ci guida tramite soprattutto la Bibbia che ci mostra atteggiamenti da avere ci mostra peccati da abbandonare ci mostra atti di morire da fare e noi spesso non vogliamo nella carne Romani 12 dice rispondere al male con il bene questo comprende in casa quanto è possibile avere uno scontro se uno dei due risponde a ogni male con bene quanto è possibile scontrare se uno risponde solo con bene al male non è possibile gli scontri in casa possono sparire se uno di due persone ubbidisce al comandamento di rispondere al male con bene e si troverà sempre nel posto giusto per compiere grandi opere non di eh ma lui ma lei non importa lui o lei tu puoi essere al posto giusto di essere usato da Dio abbiamo iniziato chiedendo perché siamo spessi scontenti perché Dio ci ha creati per grandi opere e spesso ci buttiamo a piccole cose cioè le grandi cose non vuol dire lasciare la famiglia andare a vivere per strada evangelizzando il tempo pieno se Dio ti ha dato una casa una famiglia e figli devi curare servono passi servono vestiti lavati servono pulizie servono tutte quelle cose ma io vivo per le cose terreni o vivo per la gloria di Dio perché se io ho il cuore giusto se io ho umiltà e desidero insegnamento e ascolto Dio e sono mansuetto mi troverò giorno dopo giorno nel posto giusto di influenzare per l'eternità e la mia vita avrà vero scopo e io posso essere usato per compiere opere più grandi di quelle di Cristo perché lui si limitava ad una piccola zona per pochi anni e io posso avere una vita di influenzare altri per Cristo portare il frutto che dura nell'eternità giovani cosa volete fare con le vostre vite qualcuno voleva costruire una casa in 1888 e 9 ma quella casa non vale più niente non investite in qualcosa che alla fine non vale niente investite in qualcosa che durerà per tutta l'eternità prego che possiamo rispecchiare Filippo nel nostro cammino preghiamo Padre nostro che sei nei cieli come riesci tu a gestire tutto abbiamo visto oggi che hai gestito perfettamente di mandare Filippo in missione e doveva fare forse una settantina di chilometri per arrivare al momento giusto per incrociare quell'uomo quella eunucco per poter raccontare a lui di Gesù Cristo e questo è un piccolissimo esempio di quello che tu fai tutti i giorni e prima di tutto io voglio lodarti perché sei Dio non c'è nessuno come te che riesce a gestire in questo modo ma non c'è nessuno come te che ha al cuore l'uomo tu ami salvare tu ami riconciliare gli uomini a te per mezzo di Gesù Cristo tu ami prendi una vita dedicata a cose che saranno perse per sempre e dare a quella persona la salvezza in modo che può investire in quello che durerà per l'eternità quanto spesso ci siamo impegnati in realtà in cose che sono piccole cose che non hanno alcun valore eterno abbiamo mirato a traguardi terreni sprecando anni oh che possiamo vivere per la tua gloria oh che possiamo vivere come Filippo desiderando la tua gloria e perciò camminando in ubbidienza per stare al posto giusto spesso riguardante l'atteggiamento che abbiamo il cuore che abbiamo vogliamo essere al posto giusto per essere strumenti nelle tue mani in una grande casa ci sono vasi di terra e ci sono casi di oro e di argento e gli uni sono usati per usi ignobili e gli altri per usi nobili vogliamo essere strumenti puri utili a te nel tuo servizio e ti ringrazio che questo non vuol dire cambiare vita vivere andando solo in piazza evangelizzando può essere una mamma che cura piccoli bambini può essere un papà che lavora in fabbrica però vivendo per te in ogni situazione in ogni impegno ti ringrazio che possiamo investire in quello che è eterno darci un desiderio di volere la tua gloria perché questa è la vita che conta ti ringrazio per la tua parola ti ringrazio per lo spirito santo oh che possiamo camminare nella tua via ti prego nel nome di Gesù Cristo Amen Amen